Da luglio dello scorso anno, quando è entrato in funzione stabilmente, il litotritore elettroidraulico di ultima generazione in dotazione alla clinica urologica di Catinara ha consentito di effettuare 229 interventi, 5 dei quali in urgenza. La struttura diretta dal professor Trombetta è l'unica in Friuli Venezia Giulia a poter disporre di un simile strumento fruibile appunto quotidianamente. Si tratta essenzialmente di un contenitore pieno d'acqua con una membrana a contatto con il corpo che permette la trasmissione delle onde d'urto che possono essere indirizzate senza danneggiare i tessuti fino ai calcoli e riescono a sbriciolarli. La tecnica è mini invasiva, il trattamento prevede un ricovero in day hospital, ha una durata di circa 40 minuti e viene eseguito con semplice analgesia. Consente di frammentare calcoli sia del rene sia della parte inferiore dell'uretere in maniera da ridurli in pratica in sabbia e consentirne l'espulsione spontanea visto che l'urina aiuta alla fuoriuscita di questi frammenti. Stamagna Catinara è stato fatto il punto sull'utilizzo dello strumento, costo 436 mila euro, a disposizione dell'ambulatorio calcolosi urinari e trattamento litotrissia dell'ospedale. È risolto il calcolo, una volta che il paziente è pulito si possono fare una serie di esami ematochimici, cioè in pratica studiare degli esami del sangue e degli esami dell'urina, uno studio ormonale per vedere se si tratta di uno di quei tipi di calcolosi che possono essere risolti definitivamente. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha sottolineato a sua volta la volontà da parte della regione di procedere con un ampio progetto di promozione della salute per il quale saranno stanziate risorse per strumentazioni, ma che punterà molto sull'esperienza del personale. All'incontro era presente anche il professor Belgrano, nome tutelare dell'urologia triestina e quello è ricordato come a Trieste, soprattutto nelle persone di una certa età, la calcolosi renale si riscontra in alte percentuali, ciò è dovuto anche all'eccessiva esposizione al sole nonché alla tendenza di bere poca acqua.